immagina che il sole non ti riscaldi più e vediamo il 45 giri originale di john lennon immagine registrato il 21 ottobre 1971 l'etichetta si vede un po scura perché è così dalla casa discografica vediamo se avvicino un po ingrandiamo un po ecco adesso si vede più bene immagine oggi venerdì 9 ottobre 2020 è un giorno speciale nel calendario di noi appassionati di musica oggi il beatles john lennon avrebbe compiuto 80 anni e noi lo ricordiamo così john whiston on lennon nato a liverpool il 9 ottobre 1940 ed è mancato a new york il 9 dicembre 1980 è stato un cantautore polistrumentista paroliere attivista attore cinematografico e regista britannico cioè dell'inghilterra dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante del gruppo musicale dei beatles dei quali in coppia con paul mccartney compose anche la maggior parte delle canzoni con mccartney formò una delle più importanti partnership musicali di successo della storia della musica del vendesimo secolo e il cantautore di maggior successo nella storia delle classifiche inglesi seguito da mccartney nel 2002 in un sondaggio della bbc sulle 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi si è classificato ottavo terminata l'esperienza con i beatles john lennon fu anche musicista solista autore di disegni e di testi poetici nonché attivista politico e paladino del pacifismo questo gli causò problemi con le autorità statunitensi dell'fbi che per lungo tempo spiarono tutte le sue attività e quelle della moglie yoko ono considerandolo un sovversivo e rifiutandogli più volte la green card fu assassinato a colpi di rivoltella da un suo stesso fan mark david chapman la sera dell'otto dicembre 1980 a new york john lennon si sposò due volte dal primo matrimonio con cintia powell ebbe il figlio julian mentre dal secondo matrimonio con l'artista giapponese yokono nacque il figlio sen entrambi i figli hanno seguito la carriera artistica del padre dopo il matrimonio con yokon john cambiò legalmente il proprio nome in john whiston ono lennon john lennon è al quinto posto della lista dei 100 migliori cantanti secondo rolling stone si trova inoltre al 55esimo posto della lista dei 100 migliori chitarristi secondo rolling stone ma adesso vediamo le copertine del doppio l più lp cioè lungo ascolto del 1988 ecco questa è la copertina del doppio lp del 1988 con la sua firma john lennon e questa è la copertina interna al doppio lp dove si vede lui con la sua compagna bellissimo bellissimo e qui vediamo la copertina posteriore dove possiamo vedere e leggere tutte le tracce di questo doppio lp con una sua fotografia al centro della copertina e vediamo real love twist and show help insomma fino a immagine eccola qui c'è anche immagine l'originale e adesso leggiamo il testo del brano immagine di john lennon in lingua italiana che lo canta in italiano anche alberto fortis immagina lontano un sogno che non hai la vita che volevi l'amore che vivrai immagina che il tempo non esista più domani avremo un nome o meglio o meglio libertà aiutami a cercare la tua felicità immagina che il mondo io viva viva insieme a te tu chi sei per non dire forse anche io mi salverò e volerò e volerò un giorno insieme a chi sogna già per salvare noi immagina immagina che il sole corra sotto a te uuuu uuuu ma tu chi sei per non dire forse forse anche io mi salverò e volerò un giorno insieme a chi sogna già per salvare noi e Immagina lontano un sogno che non hai, la vita che volevi, l'amore che vivrai. Immagina che il tempo non esista più. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Abbiamo ricordato John Lennon. Grazie. 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 Grazie.